Sardano Somma, Presidente dell'Associazione Prima Aurora, volontari come sempre in azione per Pasquetta. Quest'anno un bilancio estremamente positivo che ci sorprende per una volta in positivo. Le pinete sono state monitorate, la gente, soprattutto i giovani, hanno risposto bene. Assolutamente, bilancio positivo, oltre quelle che sono state le aspettative di noi stessi. I volontari hanno fatto del loro meglio, si sono assicurate che tutto avvenisse nella massima sicurezza, perché ricordiamo anche il rischio incendi durante le Pasquette, e nel massimo rispetto di quelli che sono stati i luoghi del Parco Nazionale del Vesuvio, che quest'anno non si vedeva da tanto tempo prima della pandemia, ovviamente, sono stati rispettati nel migliore dei modi. È stata grande la partecipazione dei giovani e anche di voi volontari? C'è stata una partecipazione media rispetto a quello che è stato l'afflusso degli anni precedenti, ed c'è stata una partecipazione media anche da parte di quello che è stato il flusso di volontari che ci hanno aiutato nell'attività. Questo sicuramente è un dato da tenere in considerazione, perché potrebbero poi riversarsi altre persone all'interno dei boschi nelle prossime festività. In quest'azione di monitoraggio avete avuto il sostegno anche dell'amministrazione comunale? Abbiamo avuto il sostegno dell'amministrazione comunale, con la partecipazione della Polizia Municipale nelle attività di monitoraggio, e dei carabinieri forestali dell'ente Parco Nazionale del Vesuvio che ci hanno dato il loro supporto appunto in queste attività. Quindi quelli che hanno scelto di passare la Pasquetta nel Parco Nazionale del Vesuvio, poi insomma al termine della loro giornata hanno provveduto anche a ripulire? Sotto nostra sollecitazione e con ripetuti appelli, alla fine abbiamo ottenuto quello che è il risultato atteso. Rimangono ovviamente pochi punti che erano difficili da monitorare, poiché appunto distanti o nascosti, dove probabilmente ci saranno dei rifiuti. Abbiamo infatti fatto un appello ai cittadini a segnalarci questi punti affinché possiamo ristabilire lo stato dei luoghi. E diciamo che il riscontro da parte dei ragazzi è stato positivo. A parte qualche situazione più critica e particolare, tutti i ragazzi hanno risposto bene a quello che è stato il nostro appello e fin da subito hanno iniziato a raccogliere i propri rifiuti e non, diciamo, riducendosi poi agli ultimi minuti che sono sempre quelli in cui c'è il rischio che poi si scappi in un certo senso senza raccogliere rifiuti. In vista dunque dei prossimi punti, rinnoviamo un appello ai giovani. Assolutamente. Noi saremo di nuovo in campo sia il 25 aprile sia il primo maggio per monitorare quello che sarà l'andamento degli afflussi in queste due festività e ovviamente il nostro invito è quello appunto di dare un bel esempio come quello di Pasquetta, a chi si recherà in quest'area perché non dobbiamo mai dimenticare che il parco è un bene nostro e quindi sta a noi, ad ogni singolo cittadino, tutelarlo, rispettarlo, però viverlo perché noi assolutamente non siamo contro questi momenti in cui il parco si vive ma va vissuto nel pieno rispetto delle aree protette. Grazie.